tua esperienza, Michele, con le tecnologie e gli strumenti che hai potuto utilizzare, sperimentare in questi anni? Allora, oltre agli strumenti emisync che ho sperimentato, che tuttora utilizzo e con ottimi risultati, normalmente noi abbiamo, ripeto, questo tre tipo di approcci, quindi questi tre metodi. Michael Raduga nasce soprattutto come ricercatore di strumenti tecnologici e ha studiato molto dei dispositivi, quindi delle maschere, per poter produrre sia i sogni lucidi che le obbe. Tutto quanto è ancora in fase di sperimentazione, perché queste maschere ancora non sono uscite, diciamo che sono stati prodotti, dei prototipi, lui finché non riesce a trovare la validità delle maschere, quindi su se stesso, ma anche sul gruppo di sperimentazione che lui utilizza, finché le maschere non sono testate e non hanno risultati al 100%, ancora non le produce. Adesso, diciamo, è stata ideata una maschera che sta funzionando, si chiama Lucid Me, e pare che stia dando dei grossi risultati, tanto che è già iniziata la produzione. Michael Raduga ha fatto una nuova società che si chiama Rem Space, quindi ha creato questa nuova società, e questa società praticamente produrrà queste maschere. Allora, il problema delle maschere per sogni lucidi, qual era principalmente? È che erano incomplete, erano parziali, non avevano una... cioè loro partivano soltanto col darti una serie di segnali visivi o anche segnali audio, tra dei piccoli segnali audio che teoricamente ti avrebbero dovuto risvegliare all'interno del sogno. Non so chi di voi ha provato queste maschere. Fino adesso queste maschere danno risultati all'inizio, perché tu puoi usarla e puoi avere il risultato immediato, no? Di un'uscita fuori dal corpo, di un sogno lucido. Però poi qual è il problema? Che il cervello si abitua a quel determinato suono e quindi la maschera non funziona più. Quindi le maschere devono avere un approccio più... da più parti. Cioè questa nuova maschera, in pratica... Che è quella che mi ha mandato la foto. Che ho mandato la... esatto, eccola qui. La Lucid Me, che adesso ci sarà la produzione, che inizierà la distribuzione, inizierà quest'estate in lingua inglese e poi sarà prodotta nelle altre lingue, quindi anche negli altri paesi. Questa maschera è poi associata a un'app, quindi un'app, diciamo, del telefonino, e fondamentalmente agisce da più fronti, perché utilizza tutte le tecniche che aiuta, diciamo, è un coadiuviante all'utilizzo di tutte quante le tecniche che io ti stavo spiegando prima. Cioè metodi diretti, metodi indiretti e metodi per i sogni lucidi, i metodi dei sogni lucidi. Quindi che cosa fa fondamentalmente? Prima cosa, aiuta a rimanere coscienti nel momento in cui ci si addormenta. Quindi questa maschera ha una sorta di intelligenza artificiale che riesce a capire il momento in cui tu entri in fase REM. E quindi ti aiuta a rimanere cosciente quando ti stai addormentando, quindi in maniera diretta, per avere un'uscita diretta. Seconda cosa, traccia il sonno REM, quindi riesce a capire quando stai sognando e quindi ti invia degli indizi, quindi sotto forma di bip, lucette, segnali audio, e questi indizi ti arrivano direttamente mentre tu stai sognando, quindi tu ti rendi conto che stai sognando. Terza cosa, questa maschera ti dà le istruzioni nel momento in cui ti sei risvegliato. Quindi utilizza anche il metodo indiretto, quello del risveglio. Che cosa succede? Che nel momento in cui noi ci siamo svegliati da un sogno, il nostro corpo astrale sta ancora fluttuando sopra il corpo fisico. E se tu ne approfitti per i primi 5-10 secondi, dice mai corrado, riesci ad avere una separazione. Quindi questa maschera ti dà le istruzioni e ti dice, nel momento in cui tu ti sei svegliato, dice prova a separarti, prova a rotolare, prova ad alzare il braccio, quindi il movimento dell'arto fantasma, prova a fare la rotazione, prova a rotolarti fuori, quindi ti dà una serie di indizi che ti servono poi per avere l'uscita indiretta, quindi nel momento del risveglio. Oltretutto, questa non è una maschera che funziona soltanto per i viaggi astrali o per le hobby, ma aiuta anche a dormire, per esempio, perché c'è in modalità di assistente al sonno, Lucid Me, praticamente sposta l'attenzione sulle sensazioni interne, aiutando il cervello ad addormentarsi in maniera più rapida, più sana, cioè ti dà, per esempio, delle stimolazioni sonore, luminose, suoni naturali che ti fanno addormentare, quindi ti può aiutare per chi, per esempio, soffre di insonnia, ti aiuta ad addormentare. Ci sono poi altre cose, c'è la modalità antirussamento, perché russa, no? È brutto, ma il termine è proprio quello. Io mi sono informato, ho detto, ma si chiama russamento, si chiama proprio russamento, quindi ti aiuta a non russare, perché c'è questa intelligenza artificiale che ascolta la tua respirazione mentre stai dormendo, quando sente che tu stai russando, ti avverte, ti sveglia e ti dice, cambia la posizione del corpo, incredibile questa cosa. Mi rendete conto? Vi aiuta a togliere il russamento, c'è una modalità sveglia soft, che ti fa praticamente svegliare gradualmente, in maniera più naturale, con una buona musica, c'è la modalità Buddha addirittura, modalità Buddha, cioè ti aiuta a meditare. Quindi valuta degli indicatori fisiologici che tu hai durante la meditazione e ti indica il percorso giusto che devi seguire, cioè in base al tono del suono e l'obiettivo praticamente è quello che tu riesci poi a raggiungere con la mente il silenzio assoluto e ti fondi con l'universo. Quindi è bellissima questa cosa qui, la modalità Buddha, quindi veramente è qualcosa che poi avrà anche un costo bassissimo e penso si tratta di un centinaio, 150 euro, una cosa del genere, ma credo che sia una cosa che dovrebbe, se questa cosa funziona, rivoluzionerà completamente l'umanità, il modo di vedere queste cose, cioè la maschera che funziona. Però è tutto in, come si dice, modalità lavoro, cioè coming soon, work in progress, ecco non mi veniva il termine, ne vedremo delle belle. Io ce n'ho una simile che collego al cellulare che manda insomma delle frequenze, però più una cosa rilassante. Esatto, poi il problema è che però ti abitui, magari la prima volta sei uscito fuori, ma non l'avevo comprata tanto per quello, ma per... Sai perché? Perché il cervello si abitua, perché vede questi rumori come una sorta di intrusione, un po' come quando tu vai a letto e senti il... per chi magari abita in campagna senti i cani che abbaiano, no? Le prime volte non riesce a dormire, cioè oddio, questi cani fanno un casino. Poi il cervello li esclude, quindi vedendo la coscienza vede questi rumori come intrusi e li elimina, per questo che le maschere non servono. Allora lui ha studiato un approccio più, come si dice, da più punti di vista, ok? E ne vedremo insomma. E poi ci sono tutti i metodi, perché noi normalmente non usiamo, diciamo, quello che abbiamo fatto è unire quelli che sono i metodi con gli emisync, io e Davide, fino adesso, perché io ci ho messo un po' i metodi di Michael Raduga e stiamo utilizzando questi metodi col supporto di questa meravigliosa tecnologia che sono i toni binaurali, quindi gli emisync. Tutti i metodi sono in questo libro, il libro The Phase, che potete scaricare gratuitamente, eh? Quindi questo è importantissimo questa cosa, per chi vuole cominciare subito, va sul sito oobe.it, con due o, o-o-b-e, il mio sito, oobe.it, va lì, se lo scarica gratuitamente, se lo può leggere, c'è veramente tutto quanto, se no, se si compra su Amazon, c'è il link per acquistarlo, diciamo, a prezzo di costo, il prezzo proprio della carta, vedete, è un prezzo ridicolo. Bello, bello. No, no, ma è importante, è importante ed è un argomento che è veramente fondamentale, appassionante, quindi bisogna approfondire, quindi passare dalla teoria all'esperienza, che è la via migliore veramente per prendere coscienza di... Certo, quella è la cosa principale, cioè l'esperienza, lo sperimentare, perché riprendendo anche il discorso prima della paura, no? Tutte le persone che ti dicono attenzione, è pericoloso non farlo, non ti imbattere a fare questa roba qui, non sai dove vai a finire. Poi magari tu gli chiedi, ma tu hai mai provato a avere una roba? E tu dici, no, non ho mai provato. Cioè, questo è bella questa cosa, eh? Cioè, fa quasi ridere, che io e tutte le persone che mi hanno detto non lo fare, io dico, ma tu l'hai fatto un viaggio a strada? No, mai avuto. E chi te l'ha detto allora? E me l'ha detto vicino di casa. Mio cugino, mio cugino, con due gino, diciamo noi romani, mio cugino me l'ha detto. Che roba, guarda, veramente, ragazzi, 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 dai, è un momento incredibile quello che stiamo vivendo e c'è questa predisposizione adesso che è fantastica, fantastica, quindi diamo fuoco alle polveri, veramente, perché... Però sai che questo è un momento incredibile, perché questa difficoltà che è venuta fuori, ci ha anche svegliato, ci ha dato due schiaffoni, perché c'è chi ha detto, io non ci sto a questa cosa, e c'è chi ha detto, io voglio... cioè, abbiamo capito da che parte stare, ecco, questa è una cosa importantissima. Quindi questi due schiaffoni ci volevano. Quindi ogni cosa che viene anche dal male deve essere benedetta, secondo la mia opinione. Sì, ma io lo dico da anni, dobbiamo benedire questo periodo che abbiamo vissuto, perché è un piano che si chiama il grande risveglio, ragazzi, a volte per risvegliarsi serve lo schiaffone. Quanta gente si è svegliata in questi anni? Noi parlavamo di queste cose, magari vent'anni fa ci prendevano per marchi, oppure non è. Adesso c'è una predisposizione totalmente diversa, perché si è capito che tutto quello che ci hanno raccontato, su tutte balle, quindi ci innesca il meccanismo di autoricerca, di autoindagine, ci poniamo domande che magari prima eravamo un po' anestetizzati, che adesso invece non te lo può più permettere di essere vigile, non in vigile attesa, ma vigile centrato dentro di te, in percezione. Ecco, quindi continua ed è fantastico, fantastico, dai. Bene, Davide, un messaggio finale a tutte le persone che ci hanno seguito fino a qui? Non fermatevi a una mera convinzione intellettuale di essere più del vostro corpo fisico, ma cercate costantemente un'esperienza, perché la sola convinzione intellettuale va in crisi nel momento di difficoltà. Giustissimo. Michele, tuo messaggio finale a tutte le persone che ci hanno seguito fino a qui? Il mio messaggio è questo, tutto quello che noi riusciamo a scoprire, che va oltre la parte fisica, è qualcosa che riguarda noi stessi, è la nostra volontà, quello che noi veramente vogliamo fare. Quando noi scopriamo chi siamo, dobbiamo prendere in mano la nostra vita e decidere che cosa farne. Quindi non fermiamoci soltanto a sperimentare e a vedere, ok, questo è così. Scopriamo che quando noi entriamo in queste dimensioni, noi diventiamo i creatori, quindi riassumiamo la dimensione che abbiamo sempre avuto, che è quello di essere spiriti, che stiamo sperimentando qui sulla Terra, la dualità. Quando noi comprendiamo chi siamo veramente, quindi rilasciamo tutte le nostre maschere, buttiamo, gettiamo tutte le nostre maschere, ma capiamo poi qual è il nostro reale ruolo, la nostra reale funzione. Allora lì non facciamoci condizionare da nessuno, cominciamo a ragionare con la nostra mente e a fare ciò che ci dice il nostro cuore. Questo è il mio messaggio, senza compromessi, assolutamente senza compromessi.